Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno della zona caffè di Serebiso perfettamente, che mancano due partite tra l'altro anche importanti come Como Cremonese e Spezia Pisa. Ma oggi siamo qui per fare una zona caffè diversa, un po' speciale, analizziamo tutte le altre partite e poi magari in settimana ci concentriamo su Como Cremonese e Spezia Pisa che si giocano oggi alle ore 16 e 15. Perché ho deciso di fare questo episodio speciale? Perché ci tengo a dire la mia su queste partite che sono andate in scena ieri e venerdì e soprattutto perché la classifica ha assunto cambiamenti importanti, vittorie importanti e squadre che si confermano in difficoltà. Mi raccomando però per in partita col video vi do di chiedere un pollice nel suo qua sotto, 30, 40, 50 mi piace per supportare i miei contenuti, un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, non mi costa nulla, questo è un canale che parla solo unicamente di Serie B e noi partiamo subito. Partiamo da Brescia Feralpi solo, un tempo a testa direi possiamo analizzarlo, primo tempo ottimo della Feralpi che sblocca il match con la Mantia, gran gol di testa su un grande cross di Bruno Martella che era un ex in quella partita, secondo tempo invece ho visto un buon Brescia più cattivo che non perde, questo è importante comunque non perdere per il Brescia perché in sei partite ha raccolto quattro pareggi e due vittorie, occhio puoi raccogliere sempre e solo troppi pareggi perché poi si inizia a far fatica comunque a macinare i più punti possibili, ma per il Brescia è un buon segnale non aver perso la partita, visto anche come si era messa, invece buona Feralpi Salò che sta crescendo, è un punto che comunque deve far morale, deve far credere alla squadra che può lottare per rimanere in questa categoria, sarà quota 5 punti, 9 partite, inizia quantomeno a raggiungere ogni tanto qualche piccolo risultato che può cambiare l'esito della classifica. Andiamo avanti con le partite di ieri, iniziamo da Cosenza, l'Ecco 3-0, innanzitutto devo dire una cosa, 3 euro goal del Cosenza, 2 di Francesco Forte, secondo me quello più bello è il primo che sblocca la partita, ragazzi dopo 4 minuti indirizza la partita, un gol fantastico da fuori aria, palla che finisce sotto l'incrocio, nasce comunque secondo me da un errore in costruzione dell'Ecco, il secondo goal invece è una grande azione del Cosenza che per l'appunto si conclude con questa semirovesciata al volo di Marras che insacca le spalle di Saracco, tutto nasce però anche da un grandissimo stop e un grande cross di Gennaro Tutino, poi più della partita ragazzi, sempre Francesco Forte a inizio secondo tempo con un gol sempre da fuori aria, molto molto bello, più bello secondo me è quello più bello il primo rispetto al secondo, ma è un terzo gol, chi chiude la partita che non è mai stata in discussione, sempre e solo Cosenza in campo, pochissimo Lecco, io credo che adesso inizi anche un po' a tremare la panchina di Luciano Foschi, un punto in sei partite, il Cosenza vola ragazzi a 14 punti, quinto in classifica, seconda vittoria consecutiva, terza vittoria nelle ultime quattro, può sognare in grande la squadra di Caserta, Reggiana, no, andiamo su Suttirol, Catanzaro 0-1, poco da segnalare se non che la vittoria del Catanzaro è meritata, soprattutto per aver fatto secondo me ottimi 75-80 minuti, poi ci sta magari un po' a abbassarsi nel finale, concedere qualche coesione al Suttirol, soprattutto quella con Cisco, da subentrato nel secondo tempo, giocatore molto interessante Cisco, però da segnalare nel Catanzaro un ottimo avvio di primo tempo, con tre tiri in porta dopo a malapena 13 minuti, è un gol di Iemello che è bellissimo da fuori aria, ma secondo me anche lì nasce un po' da un errore in fase di impostazione del Suttirol, ma il Catanzaro trova geometrie e passaggi che in poche squadre trovano in Serie B, veramente una squadra piacere da vedere, e cinema pure il Catanzaro quando gioca a calcio, è nella dimostrazione anche la classifica, con 18 punti in nove partite, 5 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, quella Casaling per 0-5 contro il Parma, ma non ha dato nessun tipo di timore a questa squadra, che ha continuato a giocare e a macinare punti, può segnare il Gnale del Catanzaro, sul Tirol che arriva la seconda sconfitta consecutiva, rimane a quota 10 punti dopo 8 partite, c'è tanto da migliorare per la squadra di Pierpaolo, Bisoli. Proseguiamo con Reggiana Bari, 1-1, io devo dire una cosa, la Reggiana per me meritava anche di vincere la partita, perché comunque ha avuto occasioni, ha avuto anche il merito di sbloccare la partita con Grima, dopo 10 minuti, in contropede una bella azione della Reggiana, che comunque sta vedendo che prova a giocare a calcio, prova ad avere geometri diverse, si fa recuperare con Valerio Di Cesare, al nudo numero 34, ragazzi, un'azione un po' così non fortunata, perché c'è questo lancio lungo in area di rigore, gran gol di Di Cesare, secondo me, e che poi segna, il Bari segna il primo vero attacco in questa partita, in quella partita dopo 34 minuti, e poi poco da segnare dopo, se non un palo di Antista, il 45esimo, è sempre un gol, è sempre un colco di testa di Grima nel secondo tempo, che finisce di poco, di poco in fondo, finisce di poco fuori dalla porta difesa da Brenno, il Bari, ragazzi, raccoglie l'ennesimo pareggio di questa stagione, sono già 7 i pareggi in 9 partite, una vittoria, una sconfitta, 10 punti raccolti in 9 partite, è un po' una malattia questa qua della parigite, secondo me per il Bari, deve tanto crescere la squadra di Mignani, servono a vittoria per sbloccare questa squadra, secondo me, la Reggiana ottiene comunque un punto che può far morale, 8 punti in 9 partite, la Reggiana lotterà per non retrocedere, ma sta facendo vedere cose interessantissime, proseguiamo ragazzi, con Modena-Palermo 0-2, ottimo, ottimo, ottimo Palermo, che comunque ha avuto il merito anche di rimanere, di avere la fortuna anche diciamo che il Modena rimane indice dopo un'esplosione di Ucadda, ma io del Modena non butto via tutto, perché secondo me, fino all'1-0, cioè fino al 93esimo, che la partite era solo 0-1, il Modena comunque ha avuto la sua occasione, ha provato ragazzi ad attaccare, ha provato ad impensierire il Palermo, ma comunque un Palermo che si è difeso con unghie e con i denti, ha avuto personalità nell'attaccare in avanti, la sblocca con Anderson al 47esimo, e la chiude con Mancuso al 93esimo, chiudendo definitivamente i conti, un Palermo che volo in classifica, ha spinto anche dei meravigliosi 3.500 tifosi arrivati da Palermo, per sostenere la squadra al Braia di Modena, secondo a foto a 19 punti, terza vittoria consecutiva, io questo per il Palermo lo reputo uno step successivo di maturità importantissima, vincere al Braia contro questo Modena, non era facile e l'ha fatto in maniera ottima la squadra di Eugenio Corini, che è una squadra forte che deve continuare così, perché lo dice la storia, perché lo dice il mercato, perché lo chiede anche la società con gli investimenti fatti in estate. Proseguiamo con Ascoli-Sampdoria 1-1, l'Ascoli ragazzi per me ha fatto un'ottima partita, lo ripeto, ha fatto veramente una grande partita, coronata comunque col vantaggio di, il vantaggio di chi è che aveva segnato, adesso non mi viene in mente, di Nestorovski, scusatemi, al 49esimo, un vantaggio meritoso, perché l'Ascoli ha fatto un ottimo primo tempo, con un bel gol di testa di Nestorovski, una Sampdoria molto molto tibida e paurosa nei primi 45, prova un po' a uscire fuori, secondo me poi nella ripresa, trovando anche il gol del pareggio sul calcio di rigore, giusto a segnare il calcio di rigore, per farlo su esposito, al nudo numero 50, pareggio, poi Borini, e poi la Sampdoria ha avuto anche un'occasione per vincerla, secondo me quella di De Luca, un'occasione clamorosamente sbagliata dall'attaccante, subentrato a gara in corso, un giocatore che sbaglia troppo spesso, gol che potrebbero essere importanti per la propria squadra, ma l'Ascoli secondo me ha fatto veramente una buona partita in crescita in squadra, in casa secondo me, in casa l'Ascoli per me è una squadra diversa, un punto che comunque fa salire l'Ascoli a quota 9 punti, in 9 partite, Samp che rimane penultima, a quota 4 punti, in 9 partite, secondo me Pirlo è da esonero, proseguiamo e chiudiamo il video ragazzi, con Città della Ternana 2 a 2, poi Venezia Parma 3 a 2, su Città della Ternana ho poco da dire, è una bellissima partita, secondo me e con tanti ribaltoni di fronte, una gara comunque sentita, una gara comunque molto molto maschia, con tanti falici da una parte che dall'altra, ottimo per la Ternana averla ripresa verso il finale, quel gol di Sorensen è un gol che può dare tanto morale, visto che comunque la Ternana è andata in vantaggio, poi subito il ribaltone con Maestrello e Cassano, che ribaltano la gara momentaneamente sul 2-1 per il Città, e poi per l'appunto Sorensen, dopo comunque tante azioni manovrate da parte della Ternana, trova questo pareggio che può e deve far morale, per la squadra di Lucarelli, che sappiamo che lotterà per una retrocedere, 6 punti in 9 partite, il Città continua il suo ottimo momento, fatto di 13 punti in 9 partite, grandissima via della squadra di Gorini, un cambiamento, ha avuto quest'estate con tanti giocatori nuovi, arrivate dalla Lega Pro, un cambiamento necessario, che sta portando i suoi frutti. Chiudiamo il video, ragazzi, con Venezia-Parma 3-2, ottimo Venezia, ottimo, ottimo Venezia, anche se secondo me, in avvia partita, il Parma ha avuto un po' la meglio, perché prende un palo con Benedicac all'undicesimo, il Parma che gioca bene, siccome per 20-25 minuti, poi esce fuori il Venezia, con prima un miracolo di Cicicola, su poi a un palo al trentunesimo, e poi ragazzi, il gol di Busio, a inizio ripreso dopo 20 secondi, con un grande inserimento, palla al piede, su una palla che arrivava, proprio mi sembra, dal capitano, poi a un palo, sblocca la partita, partita che poi vive emozioni grandissime, nel secondo tempo, prima con il rigore giustissimo, da segnare al Parma, segnato poi da Benedicac, al cinquantunesimo, per un mani netto di Busio, che Garzini non aveva visto in diretta, poi Tesman fa il gol del 2-1, un gol molto bello, sembrava un'azione un po' morta, invece il Tesman ci crede, e mette a segno, con un tiro raso terra, sul secondo palo, batte Cicicicola, poi arriva il terzo gol di Ellerson, in contropiede, classicazione delle squadre di Vanolli, che chiude la partita, no perché Colac, al 93, regala tre minuti di speranza, poi al Parma, ma vittoria meritata, per il Venezia, che fa una grandissima partita in casa, e si porta al terzo posto, a 14 punti, se avete visto la mia prediction, io dissi che il Venezia, per me, può essere la squadra rivelazione, che può arrivare prima in classifica, in questo momento, è a meno due punti, dal Parma a Campolista, per l'appunto, ancora con 20 punti, grandissima partita, quella andata in scena, ieri alle ore 16 e 15, tra Venezia e Parma, fatemi sapere la vostra, passate con un commento, pollicevano sul video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo, a un prossimo video, bella ragazzi,